E si segnano due bocche, come stanno a tirare la dosa a un'ora? Già fatto! Già fatto, tira... Nonostante le due giorni, lo stiamo scopando. Nonostante le due giorni, lo stiamo scopando. E se lo diciamo, non voglio essere così. Ma che c'è da me ragazzi? Ma che c'è da me ragazzi? Ma che c'è da me ragazzi? Ma che cosa? Grazie. 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 Grazie, pizzas. Grazie.